Benvenuti a Occhio ai Giornali di mercoledì 23 giugno 2021, siamo in diretta alle 7 del mattino come di consueto per aprire questa giornata informativa, questa è la prima finestra con l'informazione del nostro canale, il telegiornale lo ricordo vale 20 e 30 e lo facciamo come sempre sfogliando le pagine dei giornali che abbiamo selezionato per voi, i giornali sono il Resto del Carlino, il Corriere del Riato e le edizioni di Pesaro e Urbino. Come di consueto andiamo a vedere prima il santo e poi il tempo. Allora il santo di oggi è San Lanfranco ma vorrei segnalarvi, San Lanfranco di Pavia ma vorrei segnalarvi anche il beato Pietro Giacomo da Pesaro, l'alba alle 5.27 e il tramonto alle 20.59. Ancora una volta trebimeteo.com come copertina il caldo africano si incattivisce, titolo sull'Italia fino a 40 gradi per giorni al sud. Questa invece è la previsione per la nostra regione nella giornata di oggi, mattino, pomeriggio con un po' più di foschia, la sera invece le piogge sulla catena penninica, vedete c'è la pioggia stasera insomma, ma già da domani la situazione cambia di nuovo con tempo buono per tutta la giornata tranne il pomeriggio quando sui monti, sui Sibillini, insomma in montagna ci sarà qualche precipitazione. Ma tutto sommato ieri vi avevamo annunciato un caldo straordinario ma in realtà almeno in provincia di Pesaro Urbino o comunque Fano insomma il tempo, il caldo si è sentito ma non era poi così eccessivo come invece l'ho stato il giorno prima. Vedremo nella giornata di oggi, intanto andiamo a salutare il nostro bagnino Nicolò, buongiorno dalla spiaggia di Sassonia, bagni Maurizio. Allora come sarà la giornata di oggi? Penso bella, buongiorno a tutti innanzitutto e sembra bella guardando il tempo, c'è un leggero venticello, forse vedo anche meno foschia quindi un po' meno umidità e oggi penso che si sta bene. Ecco vedo già una bagnante che mantenendo pure la privacy adesso non stiamo a indugiare troppo ma insomma già qualcuno si sta assistemando nei lettini. Il mare com'è questa mattina? Sento le onde? È bello, adesso ve lo faccio vedere. Ecco che meraviglia. C'è anche qualche bagnante già in acqua. Che meraviglia. Che passeggiano alla mattina, si sta molto bene. Senti volevo chiederti, prima di salutarti, c'è un problema che riguarda il nodo parcheggi. Su Fano si discute molto da quest'anno tutta la zona di Viale Adriatico eccetera, è interessata da questo grande cambiamento, cioè i parcheggi sono adesso a pagamento. Ecco tu che vivi quindi lì in spiaggia, che hai i parcheggi lì a due passi, senti questo problema? La gente veramente va in altre spiagge perché non trova parcheggio? È così oppure è un po' troppo montata questa cosa? No, qua non ci sono mai stati i parcheggi, quindi a pagamento o meno non ci sono. I parcheggi ci sono davanti al, ci sono e sono a pagamento davanti al pesce azzurro, qua in Viale Adriatico davanti a noi ce ne erano due, quindi la differenza onestamente non la sento, c'erano i parcheggi dei motorini e quelli sono rimasti bianchi. Poi molti vengono con le biciclette e quindi non credo si senta molto. Poi è chiaro, magari per i clienti che vengono da fuori, loro potrebbero sentirlo di più il fatto dei parcheggi a pagamento, ma adesso non credo che sia un problema reale, credo che ce ne siano tanti altri di problemi più seri da sistemare a Fano piuttosto che nei parcheggi. Quindi il problema diciamo del parcheggio è più limitato a nord. Va bene, allora intanto grazie per queste immagini, per questo anche tuo contributo. Ci vediamo domani mattina come sempre alle 7, ok? Va bene, ci vediamo domani. Buona giornata a tutti. Grazie, anche a te e buon lavoro. Sanitari Novax, il titolo del Corriere Adriatico in direzione di Pesaro. Sanitari Novax, siete scorretti addirittura. L'appello del virologo Clementi dice, aggiunge, rifiutare il siero non va bene per chi ha responsabilità cliniche. A macerata maglia nera, macerata maglia nera dei vaccini over 60 in regione, in 18 mila hanno evitato la pernotazione. Dunque a centro pagina sul lungomare, qui siamo a Pesaro, ci vuole la bussola, segnaletica da migliorare, caldo torrido, in tilt l'area condizionata alla RSA Galantara, invalido, raggirato e costretto a pagare delle tasse fantasma e sempre da Pesaro, prende il cognome di sua moglie per poter spacciare. E poi ti saluto mascherina, ma non sarà un vero addio, liberi dalle mascherine ma fino ad un certo punto, liberi di non indossarle all'aperto, ma se c'è il pericolo di assembramento o le distanze tra non conviventi iniziano a restringersi. E allora il Corriere, lo vedremo tra poco, indica quali sono le situazioni in cui è necessario comunque anche all'aperto tenerle addosso. Prenota la visita a Santa Croce di Fano, l'attesa è da record, 23 mesi, risposta sciocca ad un forsempronese di 75 anni, dice lui ho chiamato a gennaio del 2020, mi avevano detto di attendere fino a giugno del 2021, adesso che la fattitica data è arrivata mi hanno comunicato che la visita in questione slitta a novembre del 2021. Lo scudetto bis dell'Ital Service rilancia la sfida alla Champions, perlomeno questo è il sogno dei pesaresi di portare la Champions in città. Poi dal resto del Carlino, stazione sia al parcheggio da 110 posti, prima sarà realizzata la recinzione per separarlo dai binari, più tardi lavori di asfaltatura e di illuminazione. Centropagine invece, notti da incubo per i turisti, titolari del Napoleon, Schiamazzi e Movida servono più controlli, poi Walter e la seconda generazione, parliamo ovviamente di Scavolini, abbastanza grandi per decidere ma senza smettere di imparare, presentato il libro appunto su Scavolini. Paga i debiti di tuo padre morto, ma è una truffa, da 20 mila euro, la denuncia invece degli ambientalisti, qui a Fano ogni intervento si fa a colpi di motosega e sulla prima del Carlino c'è anche la notizia che poi troverete nelle pagine interne, l'idea futuribile di interrare la strada statale nazionale, c'è il primo piccolo passo avanti, poi la politica con l'assessore Frenquellucci che è stata riammessa nei 5 Stelle, lo Sport, VL, ecco la chiave della continuità, la spina dorsale italiana per ripartire e ora si aspettano i Sidi, Delfino e Filloi. Calcio 5, Pizza e il Sogno, la Champions a Pesaro, il presidente dell'Ital Service, guarda avanti, portare la Final Four, qui sarebbe il top. Adesso invece diamo uno sguardo alle pagine che riguardano la pandemia, andiamo soprattutto a vedere, grazie a Martina Marinangeli questa mattina sul Corriere Adriatico, qual è la situazione dei vaccinati nella nostra regione. Intanto, quei 59 mila fuori dai radar, ovvero ci sono 59 mila persone che non vogliono, o perlomeno in questo momento non hanno intenzione di vaccinarsi e quindi sono fuori dai radar, cioè erano contemplati in questi eventuali elenchi, slot, eccetera, ma nessuno si è fatto vivo, quindi sono lì ad attendere. Cosa attendono? Forse attendono che finisce l'estate, qualcuno dice tanto l'estate il virus non circola, quindi facciamolo a settembre, così questi due mesi li teniamo buoni per dopo, questo più o meno mi pare di aver capito il ragionamento in linea generale. Poi ci sono quelli che in realtà non hanno minimamente l'intenzione perché non vogliono farlo in questo momento quando ancora sul vaccino si sa, sugli effetti del vaccino si sa poco. A macerata lo zoccolo duro degli over 60 senza vaccini. Nella fascia degli ultraottantenni invece sono oltre 8 mila ancora quelli da intercettare, ci sono 8 mila ultraottantenni che non si sono vaccinati, ma i marchigiani nati tra il 52 e il 61 sono i più scettici insieme alla fascia 40-59 anni. diciamo subito che fa meglio di tutti la provincia i pesaresi, insomma Pesorefano, Urbino, dove soltanto il 5,8% non si è voluto vaccinare per quanto riguarda una certa fascia di età, perché qui questi dati sono tutti ovviamente scritti ma che riguardano fasce di età, quindi se volete andare a vedere a quali corrispondono, ecco, potete andare sul Corriere Adriatico di oggi. C'è una fascia più refrettaria, che invece, che appunto non vuole la profilassi ed è quella dei quarantenni che vanno dai 40 ai 59 anni di età, che stanno disertando in numeri consistenti la prenotazione. Al momento, per quanto riguarda la fascia 50-59, hanno ricevuto almeno la prima dose in 156 mila su una popolazione totale di quasi 236 mila persone. Quindi anche qua, vedete, più si scende con l'età, maggiore è la voglia di non farsi vaccinare. Situazione che si ripropone anche in un'altra platea, cioè quella tra i quarantenni. Su una platea di poco meno di 219 mila persone a ricevere la prima dose sono state in 107 mila. È ancora troppo presto invece per quelli che vanno dai 12 ai 39 anni, perché ancora non ci sono i dati precisi. Intanto, sulla pagina sempre del Corriere Adriatico, un'intervista al virologo Clementi, che è il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, il quale dice, ma chi non vuole vaccinarsi rischia grosso con le varianti e frena l'immunità di gregge. Sui sanitari Novax invece dice sono persone, li definisce persone non corrette. Ora, la domanda sempre della Marina Angeli che dice, gli stop and go, cioè queste avanti e indietro, queste retromarce su AstraZeneca, hanno scoraggiato anche i giovani. Clementi risponde, esatto, così si rischia di allontanare le persone dalla vaccinazione. È fondamentale che si vaccinino anche i giovani perché sono un amplificatore importante dell'epidemia. Nel momento in cui si riapriranno le scuole è importante che siano immunizzati anche loro. Ora, detta così, verrebbe quasi voglia di prendere i figli, di caricarli in macchina e portarli al primo hub a vaccinare, ma in realtà sappiamo benissimo che non è così. Cioè, i giovani che si vaccinano poi, come tutti gli altri, possono contagiare o prendere il virus. La differenza è che se lo prendi, lo prendi da non finire all'ospedale o, per dirla come l'ha detta qualcun altro, al cimitero. Ma sappiamo benissimo che i giovani all'ospedale e al cimitero non ci vanno comunque, anche se prendono il Covid senza vaccino. Quindi bisogna leggerla sempre in certo modo. Quindi possono comunque diffondere, è vero che sono amplificatori, come dice Clementi, importanti dell'epidemia. Però lo sono comunque, a prescindere dal vaccino o no. Perché anche se si vaccinano, possono comunque infettare. Corrono meno rischi, ma lo corrono comunque. Li corrono comunque. Se tra gli over 60, l'altra domanda è, se tra gli over 60 la percentuale dei non vaccinati è tutto sommato contenuta, la fascia 40-59 anni è quella che ha fatto registrare più defezioni. Come mai? La risposta di Clementi è, è vero. Probabilmente non hanno compreso bene l'importanza del vaccino. Ed il fatto che il rischio di infettarsi e conseguentemente di ammalarsi è elevato se non riusciamo a vaccinare tra il 70 e l'80% della popolazione. In più c'è la questione delle varianti. E qui è interessante il discorso delle varianti. Qui, per esempio, alla domanda se il virus continua a circolare e quindi a generare varianti sempre più efficienti, rischiamo una mutazione che non risponda affatto al vaccino? Secondo me, no. Quindi siamo sempre a livelli di secondo me, secondo lui, secondo l'altro, secondo San Virologo. Perché poi di fatto tutte le domande hanno una risposta che cominciano con secondo me. Ecco, quindi dal Vangelo secondo me e non rispetto ad una letteratura medica che non è scritta da nessuna parte perché ancora siamo in una fase di sperimentazione che non ci consente di dire secondo invece studi e quant'altro. Tutto secondo me. Quindi dobbiamo fidarci di San Clemente in questo caso. Andiamo avanti. Assembramenti sulle mascherine. Vietato stare in gruppo senza protezione. La mascherina dal 28 di giugno non sarà più obbligatoria all'aperto, ma ci sono situazioni in cui sarà comunque necessario indossarla per evitare il contagio di Covid. Il governo ha infatti lasciato il divieto di assembramento e il distanziamento sociale come due regole auree a cui non ci si può sottrarre nemmeno in zona bianca. Quindi, in sostanza, se ci si trova in gruppo la mascherina torna obbligatoria. Allora, secondo voi questa situazione allo stato attuale sarà fattibile oppure no? La percentuale di fattibilità? Zero. Poi, mezzi pubblici. Questo invece sì. All'interno degli autobus non si può stare senza e questo credo che sia invece molto più fattibile. Adesso che si torna ad utilizzare i mezzi pubblici con una certa serenità d'animo, vista la diminuzione dei contagi, anche nelle marche, occorre comunque stare attenti a come si viaggia. Quando si è in attesa di un mezzo pubblico si può tranquillamente stare senza mascherina, rispettare il distanziamento, ma una volta saliti sull'autobus, su un metro, insomma, è necessario rimetterla per scongiurare ogni rischio. Ma credo che questo sia assolutamente fattibile, così come sugli aerei e sui treni. Ora, nei bar e nei ristoranti il personale non deve mai toglierla e anche qui io credo che sia una cosa buona, questo andrebbe tenuto, adesso mi dispiace per gli amici baristi e quelli che lavorano dietro le quinte nelle cucine e quant'altro, però è chiaro che la mascherina, così come fanno i giapponesi da sempre, magari non proprio quella che è, ma una protezione che dia la possibilità di respirare tranquillamente, ma una protezione sarebbe utile anche fra dieci anni, nel senso che perché poi, insomma, il piatto su cui noi andiamo a mangiare lo preparano queste persone, quindi persone che inevitabilmente parlano, ci parlano sopra, ecco, sarà che siamo diventati tutti schizzinosi adesso, magari prima non ci facevamo caso, però adesso, adesso sì. Andiamo e cambiamo argomento. Tasse fantasma, invalido, truffato, i soldi finivano in un conto estero, siamo sempre sul Corriere Adriatico, l'uomo circuito è convinto a pagare decine di migliaia di euro per cartelle esattoriali praticamente inesistenti, un raggiro studiato nei minimi dettagli, racconta il Corriere oggi, iniziato dopo la morte del padre, ieri l'udienza davanti al giudice monocratico del Tribunale di Pesaro, lui è un pesarese di 50 anni, invalido, che appunto è questo finto avvocato, l'altro protagonista è un finto avvocato che ha iniziato a parlare di più cartelle insolute e così questo pesarese è saldato una prima parte con un bonifico da 2.900 euro, insomma, ed è riuscito a spillargli tutti questi soldi. Mentre a Cagli, scusate, domani mattina a Cagli ci saranno i funerali di Samuele Santi, il sovrintendente della polizia stradale di Pesaro, morto domenica mattina in scooter sulla Pecchiese, resta grave la compagna ricoverata ad Ancona, i funerali si terranno alle 10.30 nel Duomo di Cagli dove era nato 44 anni fa. Ricordiamo anche che il sindacato di polizia ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Samo che lascia anche un figlio adolescente, 16 anni. Rivuole il cellulare invece sequestrato dopo un furto e danneggia l'ingresso della caserma dell'arma, minacce, spinte, urla in caserma dei Carabinieri, bruciate tutti, morite tutti, insomma, ne dette di tutti i colori. Un 21enne algerino che ha usato contro i militari dell'arma a cavallo tra sabato e domenica durante una notte turbolenta. Paga i debiti di tuo padre ma era una trufa, anche il Carlino Elisabetta Rossi sul giornale riferisce di questo processo che è in corso a Pesero. Dalla pagina di Fano, asfalti, prima e seconda ondata. Interventi previsti fino ad ottobre. Finalmente le strade di Fano vengono asfaltate. Un doppio piano, uno da 130 mila euro, l'altro da un milione. Brunori dice attraversamenti da migliorare. Sono gli attraversamenti pedonali che sono sempre quelli che mettono a rischio la catena debole, quindi i pedoni e quant'altro. Insomma, in questo articolo di Massimo Fughetti potrete leggere quali sono le vie interessate da queste asfaltature. Poi parcheggi invece. Dicevamo all'inizio con il nostro bagnino l'ironia di nuovo a Fano. Parcheggi a balgamento, parcheggi blu. Grande risultato. Il coordinatore che caccia dice dal sindaco solo silenzio serviva un confronto. Poi qui la riqualificazione si fa colpi d'ascia, denunciano gli ambientalisti. Ogni progetto urbano prevede di abbattere alberi. Ma il comune risponde, dice, sono semplicemente malati. Adesso invece sulla pagina 21 del Corriere Paleotta-Arzilla, sono due quartieri, Paleotta e Arzilla-Fano. Spezzatino indigesto, come deve essere la pista ciclabile. Lupus in fabula, che è questa associazione degli ambientalisti, sottopone il proprio piano all'amministrazione comunale e a diversi portatori di interessi. Bene lo stop di Aguzzi, riscrivere la legge sulle ATA. Uguccioni di in comune, dice, si confermi condivisione politica e di comunità. Rivoglio il cellulare, prende a testate il cancello della caserma dei Carabinieri, un algerino di 40 anni, si denuda, si spoglia nudo e poi sviene per i colpi, arrestato, resterà in carcere. Fano Grosseto, questa è una notizia che troverete sul Carlino di oggi, sulla superstrada Fano Grosseto, c'è lo stop a Simonini. Chi è Simonini? È l'amministratore delegato dell'ANAS, che sarà sostituito, era anche il commissario di quest'opera. Tornano dunque i guai, lascerà anche il commissariamento della E78? Questa adesso è una domanda, quindi può darsi che l'amministratore delegato dell'ANAS alle prese con i rimborsi di Vito Bonsignore per due autostrade possa lasciare ANAS, ma rimanere commissario della E78? Insomma, da vedere, adesso nei prossimi giorni vedremo quale sarà la decisione. Prenota invece una visita reumatologica, scusate, l'attesa però è da record, 23 mesi, risposta sciocca a un forse empronese di 75 anni dall'ospedale di Fano, avevo chiamato, racconta lui, a gennaio del 2020. Sotto centro maternità in Zambia grazie ad Africa Chiamo, nel Vescovo i 50 mila euro, un terzo dello stipendio di un dirigente comunale. Valcesano, Rio Maggio, argini rafforzati contro i rischi di future piene, iniziati i lavori a Mondavio. Aguzzi dice la regione rimuoverà le criticità idrauliche e sotto invece piacciono i corsi dedicati ai tennis in erba, all'impianto dell'Ellas Club di Mondolfo, già pronto ad ospitare anche gli altri tornei. Questa è la fotografia invece che ormai circola anche nella rete, i pesaresi la conoscono bene perché si tratta di questo così futuristico progetto di interrare la Statale 16 a Pesaro, lavori, il poker della giunta dalla Statale 16 ai parcheggi. L'assessore Belloni dice sono quattro i progetti che cambieranno la mobilità. Beh certo, io mi aspettavo quando all'inizio, non avendo visto il rendering, si parlava di interramento della Statale 16, beh ho detto potrebbe essere una bella cosa, poi città come Pesaro che ha una vocazione per la bicicletta, insomma eccetera, però interrarla così secondo me ha poco senso, nel senso che o ci mettiamo delle luci qua e poi copriamo tutto, quindi finisce veramente sottoterra come avviene anche a Roma e in altri posti e sopra lasciamo spazio libero per passeggiare, camminare senza automobili, ma interrato così abbassato di qualche metro, boh non so quale sia la, dove sta la convenienza, non lo so, boh ditemelo voi, ma comunque ecco questo è il progetto. L'AFA non dà tregua, disagio a galantare, intilta l'impianto dell'area condizionata, l'area vasta si è già attivata, nel frattempo vengono in aiuto i ventilatori e altri apparecchi portatili. Intanto il Sindaco Ricci annuncia che a Pesaro sono 15 le persone ancora positive al Covid, il virus è quasi scomparso, ma dobbiamo essere ancora prudenti, dice Ricci, commentando gli ultimi numeri. I comuni circostanti sono Covid free, invece dobbiamo continuare in questa direzione rispettando le regole e vaccinandoci, adesso dobbiamo accelerare e raggiungere più velocemente possibile l'immunità di Greggie. Mentre sospese, ricorderete la vicenda di Francesca Frenquellucci, attuale assessore del Comune di Pesaro, che era stata sospesa dal Movimento 5 Stelle dopo la decisione di entrare nella giunta guidata dal Sindaco Ricci, quindi di area PD, i vertici pentastellati l'hanno riammessa ufficialmente all'interno del Movimento 5 Stelle. Poi da Senigallia squarciano i teli e i lettini, lanciano vasi, vandali scatenati, spiaggia sotto assedio. Anche oggi da Senigallia arrivano notizie di questi giovani, ormai senza freni, che continuano a danneggiare le strutture di queste spiagge. Il Sindaco dice che la situazione è insostenibile, serve maggior presenza di forze dell'ordine e scrive al Prefetto. Poi sul lungomare Marconi, fuori le auto dalle 20, Olivetti che è sempre il Sindaco di Senigallia, ha posticipato di due ore l'isola pedonale, così possono essere utilizzati i 60 parcheggi. Andiamo a vedere adesso invece la pagina 26 del Corriere, sempre da Senigallia, perché c'è questo nuovo ponte che ormai è lì, deve essere solo sgomberato e inaugurato. Il Comune dice lo faremo il 2 di luglio, l'inaugurazione il 2 di luglio, verrà sgomberato il cantiere a ore, proposta la data alla Regione, verrà intitolato alle vittime della lanterna azzurra di Corinaldo e questo appunto già era stato anticipato nei mesi scorsi. Siamo allo Sport, sul Corriere Fano, i nodi non si sciolgono, dopo l'appello del patron Fatto Fidani non si è ancora fatto avanti nessun imprenditore locale, intanto i tifosi continuano le contestazioni, la contestazione contro il direttore generale Bernardini e il direttore sportivo Traini, scritte sono apparse con le bombolette spray anche allo stadio, questo è un classico, ma quello che appunto si evince, forse ce l'abbiamo anche sul resto del Carlino, vedete il titolo Alma senza sostegni economici, Fatto Fidani che è il Presidente attuale è pronto a mollare la società e quanto è emerso dopo la telefonata con il Sindaco? A maggior ragione senza il ripescaggio in Serie C. Tornando però indietro un attimo sul Corriere Adriatico, Marco Antonini si gioca lo scudetto in casa con la nuova Montellabate, il fanese Sabato Almancini sfiderà i campioni d'Italia in carica del Vicenza. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna. Vi ricordo stasera, 20 e 30 come ho già detto il telegiornale, poi alle 21 un video storico, qui torneremo un po' indietro nel tempo perché è un video che in realtà Fano TV ha già trasmesso penso più di una decina di anni fa, 10-12 anni fa. Ed è però un video storico sull'anfiteatro romano, quindi è un video originale, interessante e quindi vi invito a seguirlo stasera alle ore 21. Grazie per averci seguito, vi tutti l'augurio di una buona giornata.